Abbiamo sempre detto che il Medioevo è un periodo storico molto lungo, inizia nel 476 d.C. e termina nel 1492, in pratica più di mille anni. Gli storici allora, per comodità, lo dividono in due parti, l'Alto e il Basso Medioevo, e il punto di confine tra queste due parti è l'anno 1000. Attenzione, quando parliamo di anno 1000 non intendiamo il primo gennaio del 1000, intendiamo un periodo storico che è compreso tra gli anni un po' prima dell'anno 1000 e un po' dopo. E perché proprio questo periodo? Perché in quegli anni accadono numerosi avvenimenti positivi che miglioreranno la vita dell'Europa e faranno proprio la differenza tra Alto e Basso Medioevo. Allora, prima di tutto finiscono le invasioni. Quelle che abbiamo ricordato come la seconda ondata di invasioni ha finalmente termine, perché le popolazioni che sono entrate in Europa si sono ormai stabilizzate e addirittura in qualche caso hanno anche fondato dei loro regni. Fine delle invasioni significa ovviamente periodo di pace e la pace non può che essere un periodo positivo. Poi abbiamo un miglioramento del clima. Il clima in quel periodo diventa più mite e anche questo non può che avere degli effetti positivi. Infine verranno inventati nuovi strumenti e anche ideate nuove metodologie che miglioreranno tantissimo l'agricoltura. Agricoltura che è come sai l'attività principale degli uomini di quell'epoca. Partiamo allora proprio dall'agricoltura e vediamo che cosa succede. Tra le tante innovazioni abbiamo il mulino. Il mulino che può essere azionato sia con l'acqua, con la corrente di un fiume o di un canale, oppure dalla forza del vento. Il mulino a vento funzionava in questo modo. Al di sopra di queste pale con un'intelaiatura di legno venivano fissate delle vele potremmo chiamarle che venivano gonfiate dal vento e permettevano la rotazione di una ruota che si trovava all'interno e che trasmetteva il suo movimento alla macina. Quindi qui puoi vedere che questo meccanismo può essere azionato sia dal vento sia dall'acqua che scorre. Quindi avremo o i mulini a vento o i mulini ad acqua. Qual era il vantaggio? Allora le mole giravano e ad esempio venivano utilizzate per macinare il grano oppure per spremere le olive. Questo movimento prima di allora era fatto o a mano addirittura dai contadini o venivano legati degli animali che continuavano a girare in tondo per far ruotare il meccanismo. Ma sia gli uomini che gli animali si stancano, non possono girare continuamente, hanno bisogno di essere nutriti, mentre la forza del vento o la forza dell'acqua non hanno limiti. Questo significa che io posso macinare o spremere molto di più e per un periodo molto più lungo producendo molto di più. Un'altra serie di invenzioni che migliorò tantissimo l'agricoltura fu il gioco degli animali che tiravano l'aratro. Adesso viene inventato questo collare rigido che è imbottito, rivestito di cuoio e sostituisce l'imbragatura che c'era prima. Prima il cavallo oppure il bue aveva delle cinghie che praticamente erano legate intorno al collo e poi legate all'aratro. In questo modo però quando l'animale tirava le cinghie gli stringevano la trachea e l'animale faceva molta fatica. Invece questo collare rigido appoggia sulla spalla. È un po' come quando tu ti metti in spalla la cartella, lo zaino pieno di libri. Se le cinghie anziché appoggiare sulle spalle appoggiassero sotto la tua gola, beh, faresti molta molta più fatica. Poi vengono messi sotto gli zoccoli dei cavalli i ferri in modo che lo zoccolo del cavallo non si rovinasse anche nel calpestare terreni magari molto sassosi, molto duri. E poi viene sostituita la punta dell'aratro, il versoio, che prima era di legno, adesso invece è di ferro, quindi riesce a penetrare molto più in profondità nella terra, a rivoltare molto meglio le zolle e quindi i semi vengono piantati più in profondità, è più difficile che gli uccelli li becchino o che le radici non attecchiscano e poi è meno facile ovviamente che la punta si rompa perché adesso è di metallo e invece prima era di legno e andava sostituita molto più spesso. Parliamo ora della metodologia di coltivazione. Allora immaginiamo di avere un campo, il contadino cosa faceva? Divideva idealmente a metà questo suo campo. Perché? Perché all'epoca ovviamente non esistevano i fertilizzanti, ma tu sai anche che se io coltivo un terreno, dopo un po' che coltivo le sostanze nutritive presenti nella terra si esauriscono e io rischio di non riuscire più ad avere un raccolto. Allora il contadino divideva a metà il campo e poi ne coltivava metà, un anno, e l'altra metà veniva lasciata a maggese, cioè in pratica veniva lasciata a pascolo. Perché a pascolo? Per due motivi. Prima di tutto perché la terra si riposava e poi perché l'unico modo di concimare la terra e quindi di reintegrare gli elementi nutritivi era il concime naturale. L'anno dopo cosa succedeva? Questa parte che era stata lasciata riposare veniva coltivata a grano e questa parte che invece era stata coltivata veniva lasciata riposare e diventava a sua volta pascolo. Quindi un anno di qui, un anno di là. Questa metodologia viene chiamata appunto rotazione biennale perché ogni due anni si ricominciava il giro. Intorno all'anno 1000 si capisce che è possibile invece sfruttare il terreno in un modo che possa rendere ancora di più. Il nostro campo invece di dividerlo in due parti lo dividiamo in tre parti. E poi cosa facciamo? Una parte la lasciamo riposare e la mettiamo a maggese, a concime. Un'altra parte la coltiviamo a grano e una terza parte la coltiviamo con legumi. Qual è il vantaggio? Allora intanto io ho due raccolti in un anno e non solo uno ma due. Ho il raccolto del grano e il raccolto dei legumi in due periodi dell'anno diversi. Questo mi dà due vantaggi. Da una parte mi mette al riparo dalla carestia nel caso uno dei due raccolti andasse a male perché comunque ho sempre l'altro. E poi la varietà di alimentazione aumenta e questo ovviamente non può che fare bene. Cosa succede l'anno successivo? L'anno successivo le coltivazioni si spostano quindi non avremo più una rotazione biennale ma avremo una rotazione triennale perché il giro si conclude in tre anni. Allora primo anno io divido il campo in questo modo, l'anno successivo vedi che io sposto la coltivazione dove qui avevo coltivato il grano coltivo i legumi e il terzo anno lo lascio riposare. Qui che era stato a riposo per un anno metterò la coltivazione di grano e qui dove c'erano stati i legumi lo lascerò riposare. Alla fine del terzo anno io ho completato la rotazione. Ecco perché rotazione triennale. Allora adesso mettiamo insieme tutti questi avvenimenti e facciamo il punto della situazione. Abbiamo detto clima favorevole, periodo di pace, innovazioni tecnologiche. Tutto questo migliora l'agricoltura. Produco di più e produco cose diverse. L'alimentazione migliora, migliora la salute dei contadini. Ma se i contadini sono più sani e mangiano meglio, non solo vivono più a lungo, ma c'è un aumento demografico perché i bambini che nascono riescono a diventare grandi, riescono a vivere più a lungo e muoiono molto meno, cosa che invece purtroppo fino a quel periodo era abbastanza normale. Quindi noi dopo l'anno 1000 avremo in Europa un aumento del numero di abitanti che non si era mai avuto nel periodo precedente.